Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo un nuovo video vi spiego come risolvere così tutti i problemi riguardo all'audio sul tuo computer quindi in questo caso se ti ritrovi l'audio che non funziona quindi non dà segnali acustici oppure la barra si alza e scende però tu non senti l'audio vuol dire che qualcosa non va con il dispositivo e con il computer e con i suoi driver quindi in questo caso come puoi vedere controlla che gli altoparlanti o le cuffie che siano correttamente collegati al computer e che siano accesi assicurati che il volume sia impostato correttamente sia sul computer che sugli altoparlanti o sulle cuffie che cosa significa? è come se tu colleghi delle casse audio al computer e queste casse hanno anche una rotella dove tu puoi alzare e regolare questa rotella per alzare e abbassare il volume quindi assicurati che il volume sia alzato quindi verifica che i driver audio siano correttamente installati sul computer ed eccoci qua, arriviamo a questa parte qua in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma driver easy che ti permetterà di aggiornare tutti i driver che ti servono sul tuo computer e anche i driver audio ovviamente c'è la versione Lite Pro e l'ultima versione di 99,50$ 50 compiti per 3 giorni, vabbè comunque a noi ci serve questa qua da 0$ quindi quella gratuita andiamo così a scaricarla e installare così il programma eccolo qua all'installare il programma è facilissimo fai la scansione dei tuoi driver quelli che devi aggiornare fai aggiorna ed eccole qua scendo fino a giù fino a trovare il mio driver da aggiornare come puoi vedere Realtake High Definition Audio pesa 63 MB e l'ho già scaricato ovviamente questa versione Lite ti permetterà di scaricare l'aggiornamento ma quando andrai ad installarlo dovrai farlo manualmente perché questa qua non è la versione Pro se passi a Pro scarichi e installi l'aggiornamento e hai fatto qui invece fai aggiorna crea manualmente faccio continua installa manualmente faccio continua e mi esce così questa cartella con i driver all'interno ok io cosa faccio copio così il percorso file di questa cartella dei driver Realtake High Definition Audio questo è il mio dispositivo audio che uso per ascoltare musica guardare film giocare quindi tasto destro su start qua sotto gestione dispositivi controller audio video e giochi ed eccolo qua tasto destro sopra aggiorna driver cerco i driver nel computer ed eccoci qua e io inserisco quel percorso file che ho copiato ok di quella cartella ok quindi copio e lo inserisco qua faccio avanti e installo il mio driver se no possiamo fare aggiornare driver cerchi i driver nel computer scegli da un elenco i driver disponibili nel computer ed eccoli qua Realtake High Definition Audio e tutti e tre ok vai avanti e lo installi se non dovesse funzionare è possibile che il tuo dispositivo audio ha un problema però tu non sai che tipo di problema quindi bisogna fare una diagnostica quindi andiamo direttamente su risoluzione quindi impostazioni risoluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi qui ci fa capire qual è l'errore del nostro dispositivo audio può essere che il cavo non è connesso correttamente quindi il cavo jack è connesso in un posto dove non funziona quindi la porta quindi andiamo su e facciamo esegui abbiamo il tuo consenso a eseguire l'agnostica facciamo sì ora sotto sotto si è sentito un bip quindi hai sentito il suono bip io lo sentite faccio sì quindi l'audio a me funziona posso eseguire nuovamente la scansione per cercare di trovare il problema facciamo sì prova a riprodurre il problema che stai scontronto ora ad esempio se stai utilizzando un'app musicale prova l'app quindi riavvia l'applicazione quindi riavvia il sistema e prova di nuovo a fare questa verifica quindi sezione continua quando è finito di riprodurre il problema facciamo continuo sta anche indagando affinché non trova il problema siamo si piacenti di non essere riusciti a risolvere il tuo problema perché non c'è nessun problema da risolvere sul mio computer perché a me l'audio funziona ora chiudiamo un attimo qua riavvia il computer a volte il riavvio può risolvere problemi audio temporanei controlla le impostazioni audio e il sistema audio per assicurarti che l'uscita audio corretta sia selezionata tasto destro sopra su impostazioni audio ed eccole qua output qui devi inserire così il tuo dispositivo audio che vuoi usare oppure vai su apri mixer volume ed eccole qua tipo ad esempio su discord o altri programmi o giochi ci clicchiamo sopra dispositivi di output e inserisci così tuo dispositivo output quello che esce fuori quindi quello che tu ascolti dispositivo di input invece si riferisce ai microfoni ok offrono strumenti per risolvere i problemi audio comuni l'abbiamo già fatto quindi sarebbe la risoluzione dei problemi se stai utilizzando un software specifico per la riproduzione audio assicuri che le impostazioni di uscita audio siano corrette all'interno di questo software ok se hai provato tutti i suggerimenti precedenti ma il problema persiste potresti dover contattare il supporto tecnico del produttore del computer o cercare assistenza da un tecnico specializzato e chiudiamo qua e ora passiamo agli altri passaggi quindi in questo caso se ti ritrovi qua sotto su questo logo dell'altoparlante a me funziona l'altoparlante ma se a te c'è l'altoparlante con una x rossa sopra vuol dire che l'altoparlante qua sopra è collegato al nostro computer però è disattivato quindi andiamo direttamente su gestione dispositivi e andiamo direttamente su input e output audio qui sopra gli altoparlanti quelli connessi al nostro computer in caso c'è una freccia nera in giù vuol dire che quel dispositivo è disabilitato tasto destro sopra abilita dispositivo se non dovesse andare vai su controlle audio video e giochi ed eccoli qua gli altri dispositivi audio come puoi vedere quello che usate più è Realtek Air Audio questo qua e questo invece è il microfono quindi se c'è un triangolino giallo bisogna aggiornare i driver del nostro driver audio quindi cerca driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili metti questo e fai avanti una volta aggiornato così il microfono che funziona Realtek Air Audio tasto destro sopra abilita dispositivo per l'audio se non dovesse andare andiamo direttamente su mmsys.cpl facciamo invio ti uscirà così il pannello audio come puoi vedere altoparlanti se c'è una freccia nera giù il dispositivo è connesso però non è abilitato tasto destro sopra abilita se invece c'è una freccia rossa in giù vuol dire che questo qua è del mio monitor quindi in questo caso io tengo connesso i cavi per vedere sul monitor lo schermo quindi attaccato alla scheda video però non c'è i cavi per l'audio quindi non è collegato quindi non funziona questo qua quindi bisogna prima collegare i cavi audio e poi abilitare il dispositivo se non dovesse bastare andiamo direttamente su cmd prompt dei comandi esegui come amministratore e facciamo sì in descrizione vi ho lasciato questi comandi da inserire netlocalgroupadministratorsadnetworksurvice facciamo copia e lo incolliamo qua mettiamo membro del gruppo e inseriamo pure quest'altro una volta fatto chiudiamo qua ritorniamo su gestione dispositivi se non funziona direttamente il tuo dispositivo audio che hai collegato al tuo pc e c'è ancora la freccia di raggiù e un triangolino giallo tasto destro sopra disinstalla il dispositivo e riavvia il sistema se è disinstallato però c'è l'icona dell'audio che è trasparente tasto destro sopra fai abilita quindi installa il dispositivo e aggiorna i driver del dispositivo se non dovesse bastare ancora andiamo su servizi scendiamo fino a giù fino a trovare il servizio plug and play ci clicchiamo sopra tipo di avvio automatico metto sempre automatico questo stato del servizio che è in esecuzione se a te non è in esecuzione fai avvia, fai applica, fai ok e metti automatico e chiudi qua quindi se questo video ti è stato utilissimo come risolvere tutti i problemi riguardo all'audio ad aggiornare, a vedere, a fare una diagnostica anche il nostro dispositivo audio che non funziona oppure le barre dell'audio si alzano scendono ma tu non senti l'audio è qualcosa che non va oppure hai comprato delle casse audio per collegarle al tuo computer e il tuo monitor non ha casse integrate collega quelle casse al monitor e poi collega anche al computer se le casse dispongono di due cavi se è il cavo jack che è un cavetto usb quindi grazie a tutti per questa visione per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video iscriviti, lasciate like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao